Tale e quale 13. Classifica 2 gradi puntata. Caporetto ex GF, Conti Stizzito. I punti salienti e la classifica della seconda puntata del talent show del venerdì sera di Rai 1, Conti Stizzito. Si è conclusa la seconda puntata di tale e quale show 2023. A inizio puntata Carlo Conti ha consegnato dei fiori a Loretta Goggi, che proprio il 29 settembre ha compiuto 73 anni. Dopodiché al via le esibizioni. Ha aperto le danze Giosquillo, che non ha per nulla brillato, e le ha chiuse Ilaria Mongiovi, con una esibizione che le è valsa una giusta standing ovation. Di seguito la classifica generale della seconda puntata. Primo posto Axe Eco per Licitra e Mongiovi. Lorenzo Licitra ha cantato. Scene of the Times. Di Terry Styles. 5 punti dati a Ginevra Lamborghini. 64 punti. Ilaria Mongiovi ha cantato. Beautiful That Way. Di Noah. 5 punti dati a Pamela Prati. 64 punti. Gaudiano ha cantato. Vieni da me. Di Francesco Sarcina. 5 punti dati a Licitra. 57 punti. Jasmine Rotolo ha cantato. Fame. Irene Cara. 5 punti dati a Gaudiano. 53 punti. Pamela Prati ha cantato. Sentimentale. Di Vanda Osiris. 5 punti dati a Jasmine Rotolo. 49 punti. Ginevra Lamborghini ha cantato. Ci pensiamo domani. Di Angelina Mango. 5 punti dati ad Alex Belli. 46 punti. Maria Teresa Ruta ha cantato. La Pioggia. Di Gigliola Cinquetti. 5 punti dati a Ilaria Mongiovi. 44 punti. Scialpi ha cantato. Il Carrozzone. Di Renato Zero. 5 punti dati a Maria Teresa Ruta. 40 punti. Alex Belli ha cantato. Piccola Stella Senza Cielo. Di Ligabue. 5 punti dati a Pamela Prati. 38 punti. Gio Squillo ha cantato. Il Paradiso. Di Patti Bravo. 5 punti dati a Pamela Prati. 29 punti. Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni hanno cantato. Stay in Alive. Dei Bee Gees. 5 punti dati a Pamela Prati. 20 punti. Curiosità. Tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello V. occupano le ultime posizioni. Unico. Intruso. Scialpi. La Prati al quinto posto per via dei tanti punti ricevuti dagli altri concorrenti. Altrimenti sarebbe precipitata. Tale quale show 13. Le imitazioni della terza puntata. Maria Teresa Ruta sarà Ambra. Lorenzo Licitra sarà Diodato. Ginevra Lamborghini sarà Dua Lipa. Scialpi sarà Domenico Modugno. Giastion Rotono sarà Sade. Ilaria Mongiovi sarà Lady Gaga. Pamela Prati sarà Donatella Rettore. Alex Belli sarà Rosa Chemicol. Gaudiano sarà Luis Capaldi. Gio Squillo sarà la rappresentante di lista. Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni saranno i Feronez. Stizza di Carlo Conti sul finale di puntata. Allo scoccare della mezzanotte è stato festeggiato in studio un altro compleanno. Quello di Giorgio Panariello. Il comico ha spento 62 candeline. Per l'occasione e anche per il già citato compleanno di Loretta Goggi è stata portata in studio una torta. Peccato che nessuno si è preoccupato di portarla via prima che venisse data la classifica. Carlo Conti. Udite udite. Ha avuto un leggero gesto di stizza. Commentando così la situazione. Porto via questa torta. Un attimo. Faccio quello che avrebbero dovuto fare altri ma pazienza. Grazie.